Qual è il legame tra pensieri ed emozioni? Questo legame come influenza i nostri comportamenti e perché è importante sapere tutto questo? Buongiorno a tutti, sono Giusy Ciccolella, un'educatrice professionale che lavora da quasi 20 anni nel campo della riabilitazione psichiatrica e geriatrica. Se vuoi sapere qualcosa di più su di me e sul mio lavoro vai a vedere il mio sito internet www.stimolazionecognitiva.info e vai a dare un occhio alla mia pagina Facebook. Quello che dirò in questo video è ispirato alla terapia razionale emotiva comportamentale di Albert Ellis. Vi consiglio di andare a guardare qualche edizione Ericsson a riguardo. Vi mostro questo che è uno dei tanti della Ericsson, l'abc delle mie emozioni. Questo è rivolto ai preadolescenti ma esistono formati edizioni rivolti anche ad altre fasce d'età. Per aiutarvi a seguire tutto il mio discorso che quest'oggi è un po' complesso, utilizzerò uno schema qui accanto a me. Iniziamo con il chiamare A, gli eventi, i fatti e le situazioni che accadono intorno a me o dentro di me, come dei ricordi o delle sensazioni fisiche. Poi chiameremo B, i pensieri, le interpretazioni, le deduzioni che facciamo noi riguardo ad A, riguardo a quell'evento. Chiameremo poi C, le nostre risposte emotive, in conseguenza i pensieri fatti. Queste emozioni possono essere piacevoli, come la gioia, la tenerezza, l'amore, la sorpresa, o possono essere spiacevoli come la rabbia, l'ansia, l'angoscia, la paura o la tristezza. Poi chiameremo D, i nostri comportamenti, quello che faccio, quello che agisco. Molte persone pensano che C, cioè le nostre emozioni, derivino direttamente da A, dall'evento, che quindi un fatto esterno provochi in noi una risposta emotiva. Niente di più falso. In mezzo abbiamo sempre B, i nostri pensieri, il nostro punto di vista riguardo ad A, riguardo all'evento, la nostra interpretazione. E questo è il punto chiave di ciò che voglio dirvi. È importante essere consapevoli che il nostro punto di vista e la nostra interpretazione di quel fatto non è la verità assoluta, non è il fatto stesso, ma è quello che noi pensiamo riguardo a quel fatto. Noi dobbiamo essere in grado di distinguere il fatto dal nostro pensiero a riguardo. Ma perché ritengo importante dirvi tutto questo? Perché se io imparo a modificare B, il mio pensiero, modificherò di conseguenza C, avrò una risposta emotiva meno intensa, e il mio comportamento D sarà un comportamento meno impulsivo, meno disfunzionale. Quindi ogni volta che mi comporto in un modo che non mi soddisfa, devo imparare a rivedere tutto il percorso sotto un'ottica diversa, ripartendo da B. L'evento io non posso modificarlo, l'evento rimane qualcosa di oggettivo al di fuori di me, ma io posso intervenire su B, posso modificare il mio pensiero, la mia interpretazione riguardo al fatto. Così creerò B1, il pensiero alternativo più funzionale, più consapevole. Lo creerò in modo intenzionale, perché a quel punto avrò capito che il mio punto di vista non è la verità assoluta. Il mio pensiero alternativo, B1, darà origine a un'emozione alternativa, meno intensa e quindi più gestibile, che chiameremo C1. Di conseguenza, la mia risposta comportamentale sarà più equilibrata, pensata, razionale e sarà più funzionale al raggiungimento del mio obiettivo. Ci tengo a fare un altro appunto rispetto alle cose che ho detto e al linguaggio che ho utilizzato. Io non ho parlato di pensieri giusti o sbagliati, io non ho parlato di emozioni brutte o belle, io non ho parlato di comportamenti buoni o cattivi. I termini che ho utilizzato sono stati funzionale, disfunzionale, adeguato, inadeguato, utile, inutile. Quindi in tutto questo processo non devono entrare i giudizi e gli autogiudizi. Adesso voglio farvi un esempio concreto, personale, per farvi capire meglio tutto questo processo in modo un po' più concreto. L'evento è un incidente, un incidente che mi è capitato qualche mese fa, un incidente automobilistico, che è A. B sono i miei primi pensieri, le mie prime interpretazioni al riguardo. Devo dire che erano pensieri abbastanza terrifici e catastrofici. Ho avuto pensieri di morte, ho pensato che sono stata vicina alla morte, che avrei potuto non sopravvivere a questo incidente, che avrei potuto non rivedere più i miei bambini e che li avrei lasciati soli. Ho pensato che ho subito un grande torto, ingiustamente, in un momento, in una frazione della mia vita. Ho pensato che tutto può veramente cambiare in una frazione, ho pensato che il danno economico era veramente ingente, ho pensato che avrei avuto problemi a organizzare la mia giornata per le settimane successive perché non avevo più a disposizione la mia auto. Tutti questi pensieri hanno fatto insorgere in me delle emozioni molto intense, molto spiacevoli, come l'ansia, la preoccupazione, la paura, la rabbia, la tristezza. Queste emozioni mi bloccavano e non mi permettevano di essere più efficiente e avere il controllo della mia vita quotidiana. Facevo fatica a concentrarmi al lavoro, avevo sempre tutti questi pensieri che mi occupavano la mente, facevo fatica a dormire di notte, anche le relazioni interpersonali erano appesantite da tutto questo perché io continuavo a parlare con le persone solamente di questo argomento e buttando a loro dosso tutte le mie emozioni negative. Quindi capite come questa cosa mi facesse stare molto male. Però siccome io utilizzo tutti i giorni e sono consapevole di questo processo nella mia vita, lo utilizzo sia nella mia attività lavorativa che nella mia attività personale, che rispetto all'educazione con i miei figli, ho detto no vabbè Giussi è proprio tu, quindi non mi sta bene sentirmi così, non mi sta bene comportarmi così, non mi è utile, non va bene per la mia qualità di vita e quindi ho provato a innestarmi su B e creare B1, quindi ho provato a iniziare piano piano a creare dei pensieri alternativi, quindi il pensiero di morte assoluto è diventato caspita ma non sono morta, sono sopravvissuta, quindi cambiando il pensiero è cambiata anche l'emozione, non era più di angoscia ma era un'emozione quasi di sollievo, di felicità. Il pensiero di non riuscire a gestire la macchina, di non avere la macchina è stato sostituito da un pensiero più razionale, più veritiero che era quello beh i miei genitori hanno una macchina in più, posso chiederla loro in prestito, quindi anche lì l'emozione è andata a ridurre la sua intensità. Aver cambiato i miei pensieri, aver ridotto l'intensità delle mie emozioni mi ha permesso di avere dei comportamenti più utili, quindi di riprendere in mano la situazione, di riuscire a concentrarmi al lavoro e di riuscire a gestire tutte le cose che dovevo affrontare, quindi l'assicurazione, la carrozzeria. Questo mi ha permesso di sentirmi meglio dentro e di sentirmi di nuovo padrone della mia quotidianità. Spero veramente che quello che vi ho detto vi possa aver ispirato e vi possa essere utile nella vostra vita di tutti i giorni. Se non volete perdervi altri contenuti simili iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina. Intanto vi do un abbraccio, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.